Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, scusatemi gli occhiali e i capelli ma oggi non so così brutti, per me non porto la mia faccia io non so più cosa fare veramente per la mia faccia devo provare a dar qualcos'altro perché sarà lo stress, forse non c'è un'altra spiegazione anche perché sto seguendo la nona dieta quindi non c'è niente, è la mia pelle che si sta rivolto andando contro di me comunque, adesso sto cucinando per pranzo, mentre aspetto che si cucina perché la roba si deve cucinare troppo, faccio i capelli che sono suoi da passeri, vabbè se vedete qua qualcosa è sempre la mia copertina perché in camera mia si sta bene, però nell'altro stanzia no metto pure le mani sempre secche, eppure sto usando la crema ma c'è un secchio il mio corpo si sta decomponendo, sto morendo, non so, no scherzo ovviamente comunque, procediamo con questo video, allora come voi sapete oggi, anzi non lo sapete ve lo dico io oggi che è 6, 6? 6 febbraio, il mio canale smr non questo ovviamente, il mio canale smr che è Sara smr se ancora non siete iscritti vi lascio sotto il link, vi prego iscrivetevi ovviamente vi piacciono gli smr, non è una presa che dovete farlo scrivere se lo vi ammazzo però se vi piace il mondo smr, vi piacciono le cose rilassanti e i bookbank in versione smr, adesso mi sto abituando a fare anche quelli perché alla fine se no li riascolto va bene, devo riascoltarli a volte, poi montarli però finché lo faccio io non mi chiede tanti problemi, ci sto abituando dai e visto che me l'hanno richiesto, dai proprio mi dispiace di tutte le persone che mi seguono e comunque un mese ho coperto il canale, solo smr, e sono già arrivata almeno a 105 iscritti quindi c'è male, sono contenta quindi non siamo qua a parlare del mio altro canale, il mio secondo canale che comunque mi invito sempre ad iscrivervi perché chi non è ancora iscritto mi piacciono questo mio mondo farò uno speciale poi che uscirà tra un po', non so quando perché ho fatto già un video prima quindi uscirà anche uno speciale per i 105 iscritti ovviamente se vedrò che andrò avanti con gli iscritti magari lo farò diventare uno speciale per i 200 spero, se no rimarrà a quanti iscritti arriverò e niente comunque è un primo video uno speciale dove rispondo alle queste domande in whispering o in audible, adesso vedrò un po' com'è impostarlo perché devo avere perennemente silenzio, cosa che in questa casa non c'è male però sono qua per sponsorizzare il canale secondario, quindi il secondo canale del mio ragazzo perché ha avuto la mia stessa idea, gli ho detto provaci, mal che vada, mal che vada cioè non ci perdiamo nulla lui è molto amante dei videogiochi, cosa che io apprezzo a differenza di altri ragazzi che magari non l'apprezzerebbero io preferisco, perché no, io non è che ho un odio, perché io non odio niente diciamo che preferisco il ragazzo nerd, il ragazzo fisito con lo sport a livello di calcio sono sincera, preferisco magari un ragazzo che preferisce come me magari giocare ai videogiochi, guardarsi le serie tv perché il mio fidanzato è comunque molto attivo molte persone pensano che il tipico nerd non si attiva anzi, anche forse è più attivo di me ci sono più attiva a livello schizofrenico di fare tante cose invece lui è più attivo nel senso di camminare sotto il sole cocente farsi passeggiate passeggiate, lui sono falcate perché è comunque più alto di me sotto il sole cocente ad agosto mentre invece io vorrei starmene a mollo in una chinozza gelata di acqua però ha aperto questo secondo canale che si chiama The Leon Gamer il nome gliel'ho consigliato io ovviamente perché sono molto originale no, perché comunque io lo chiamo spesso leoncino leone perché ha questi cappelli che non sono del tutto lisci sono un po' cromporici e a volte assomiglia un po' un leone questo mi piace appassione del gamer del gaming, videogame e tutto poi ovviamente il suo canale verrà improntato su tutto ciò che ha a che fare con i videogame cosa che poi ovviamente toglierà dal suo canale ufficiale che invece adesso cambierà poi anche il nome perché sinceramente avere due canali con scritto sempre gamer non ha molto senso infatti poi insieme decideremo il suo nuovo nome del canale che l'avrà cambiato 50 volte ma non ho pa' di ciccato anche l'ho cambiato tante volte a degli miei rimanerà per sempre The Soared Princess come l'altro rimanerà SarasMR di solito non cambio più se non mi rincoglionisco pure io allora il suo canale si chiama appunto The Leon come le ore, The Leon, non so come pronunciarlo scusatemi il mio inglese fa fa schifo ve lo lascio sotto nel commento principale nella descrizione ovunque sia andateci e iscrivetevi perché appunto all'inizio per adesso ho 12 iscritti almeno da quando sto facendo questo video ho 12 iscritti lo sponsorizzo perché è il mio ragazzo faccio quello che voglio lo sponsorizzo intanto io bevo il mio caffè freddo molto freddo senza lattosio perché ho macchiato comunque andate nel suo canale dategli un'occhiata però l'ho fatto uscire solo un video ovviamente che è appunto un gameplay di un gioco che non mi ricordo il suo nome non so però pronunciarlo però è molto figo è un po' misterioso a volte mi metto un po' d'ansia però è molto bello ha un'ottima risoluzione è proprio fatto non so poco usare la parola precisa vabbè andatelo a guardare decidete voi comunque per gli amanti del gaming e il mio ragazzo ha piatto questo unico canale e poi cambieremo ovviamente il suo nome perché secondo me nell'altro canale un po' come voglio fare io in questo portare un po' di tutto io qua porto un po' di tutto tranne come degli smr che i miei vecchi smr li ho lasciati perché alcuni non sono riusciti a scaricarli e a trasportarli nell'altro canale quindi ve li lascio però sono lì i giacenti e gli altri li ho tolti li ho messi non in elenco non li ho cancellati perché ho paura di perdere le ore non so come funzioni quindi li ho semplicemente li ho messi non in elenco e gli altri li ho messi nel nuovo canale con quelli nuovi che ovviamente sto andando a fare di volta in volta perché volevo dare un potenziamento al canale se sa cosa vuole fare il mio ragazzo cioè non è sbaglia molti dicono ma perché non ho uniti i canali perché fa tutti questi canali perché secondo me ci sono persone a parte se non siete personaggi già famosi come tipo Valley Fitness o che ne so ne so fare degli esempi Anima purtroppo la Sabir Gamer che non mi fa più impazzire più di tanto o altre persone di The Show da The Space Valley non potete fare cioè non possiamo fare tra virgolette quello che vogliamo e avere tante visual quindi una persona comunque nasce con un'impronta quindi con un diciamo genere quindi io qua adesso ovviamente ridurrò le cose che porto ma non perché non mi piace per il semplice fatto che trovo molto molto difficile portare tanti argomenti di mantenerli soprattutto porto le tematiche sessuali che sono fanno molto tra l'altro è uscito il video oggi questo giorno che sto girando adesso il video che ho pubblicizzato un pochettino non troppo perché se no la Giade mi segnala gente molto cattiva comunque quindi anche il mio ragazzo ha avuto questa idea perché comunque non vediamo grandi risultati nei nostri canali principali cioè io comunque ho dei buoni risultati non ottimi come spero ovviamente però l'ho fatto semplicemente per un fatto di non so di organizzazione mettiamola così ho tante cose da fare un fatto di organizzazione il mio ragazzo poi farà lui anche il video penso per sponsorizzare ma sendo che io ho già mille iscritti a dire vero ne ho quasi 1400 ma non ci sono ancora arrivando perché non so perché salgono e quindi i famosi 1400 li raggiungeranno forse a capodanno e niente sponsorizzato prima del mio ragazzo se vuoi andare a vedere il suo video e vi lascio sotto come anche il link del suo canale o lascio il link direttamente del video vedrò poi spero di ricordarvi perché a volte mi dimentico di mettere anche le copertine come stamattina che è uscito il mio video e c'era la mia faccia orribile così messa sullo schermo perché sono rincoglione no purtroppo sono tanti tante cose che ho da fare ogni giorno poi ci farò un video dove vi spiegherò tutto il mio mondo incantato e fantastico e niente questo è tutto io volevo solo prendervi partecipi di questa nuova scoperta che il mio ragazzo ha aperto questo secondo canale e lo trovate anche nella community se non lo trovate qua sotto comunque sono lì che lo sponsorizzo e niente continuate a seguirvi se vi fa piacere io vi saluto devo andare a controllare il pesce in capito di fuoco un saluto a tutti mi raccomando lasciate sotto nei commenti se vi può interessare questa cosa qua oppure no mettete hashtag gamer ciao a tutti